Signori, oggi si gode, si gode, finalmente dopo quattro mesi si torna a vincere e non ne potevo più cazzo ed è stata una cosa molto fortuita perché poi dopo i gol ci siamo fomentati, gasati, grazie a Lico Giannis e di questo fomento esiziale, però ci siamo fomentati, gasati, torturati, sculacciati in live per di più, quindi grazie a tutti della live, della partecipazione, stiamo fomentati anche se oggi non eravamo tantissimi, però grazie come al solito a tutti della partecipazione, sono fomentato, sono fomentato, sono fomentato perché ho visto una partita terribile nei primi 50 minuti, poi questi due gol, bravo Pavoletti che ti ho, vedete ormai il criticare e insultare funziona sempre, il criticare così in modo aspro e duro e cattivo i giocatori, speriamo che allora anche Simeone dalla prossima partita si possa riprendere, bravi, 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 perché questa partita non contava la prestazione, contava solo vincere, bravo, semplici, corretti i cambi, bravissimo con i cambi, bravissimo a togliere Gio Pedro che al di là del gol è partita insulsa, bravissimo, 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 bravo, bravi tutti, bravi tutti, bravi tutti, bravissimi tre centrali, centrali, Cepitelli ha fatto delle grandissime chiusure, Godina anche, anche Rugani, abbiamo rischiato, traversa del Crotone, ha preso un palo a Unas, rischiato abbiamo rischiato, ma non me ne frega niente, oggi l'importante era vincere, sapete cosa vi dico, io non vi faccio nessuna analisi, oggi è solo una goduria totale, goduria totale, lo so che è stupido godere perché abbiamo vinto contro il Crotone, ma non vi godevamo da quattro mesi, cioè da quattro anni, più o meno, da quattro mesi, da quattro mesi, quindi oggi fatemi godere, nessuno qua sotto deve fare il buonista, deve venirmi a rompere le scatole, ok? Ok? Va bene, detto ciò io vi saluto, vi voglio, anzi ecco qua sotto date sfogo, ecco fatemi una frase poetica, filosofica, storica, geografica, matematica, fisica, quello che volete, un qualcosa di estremamente simpatetico e io vi metterò il cuoricino e vi risponderò con qualche citazione latina, va bene? Va bene? Va bene? Va bene? Va bene? Fomento, fomento qua sotto, ciao ragazzi, un bacione a tutti!